Lei per me è prezioso come lo era per suo padre e sua madre. Ho giurato loro che l'avrei protetta. E non l'ho fatto. Il sindaco lo scaricherà in primavera. Davvero? Ma è un eroe. Un eroe di guerra. Siamo in tempo di pace. Quanto pensa che possa durare? È in arrivo una tempesta, signor Wayne. È meglio che lei e i suoi amici vi prepariate al peggio. Perché quando arriverà, vi chiederete come avete potuto pensare di vivere così alla grande, lasciando così poco per tutti noi. Che cosa dicono? Sollevati! Quando Gotham sarà in cenere, avrà il mio permesso di morire. No, non, 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 non. Grazie a tutti.